Questo è Marco, 29 anni da Vicenza. Ma dai, un'amica di Vicenza, magari la conosci, Lara. Senti, da quant'è che usi Six Continent? Sei mesi. All'inizio lo scettico, ma poi quando ho visto che a fine mese avevo più soldi da spendere... Ok, ma come funziona? Six Continent è una piattaforma di social commerce. Ti iscrivi gratuitamente, crei il tuo profilo e da subito guadagni i crediti, con i quali puoi acquistare delle shopping card. Shopping card dei tuoi marchi preferiti, per pagare i tuoi soliti acquisti. Ci sono oltre mille brand, vestiti, cose per la casa, cosmetici, qualunque cosa. E da quel momento, per ogni tuo acquisto, guadagni i crediti. Sì, ma li guadagni anche dagli acquisti di tutti gli utenti Six Continent nel mondo, anche se non fai acquisti. E con i crediti cosa fai? Beh, puoi pagare la benzina, la spesa al super, le bollette, sia nei negozi fisici che online, oppure dal tuo smartphone. Six Continent aumenta il tuo potere d'acquisto. Senza che tu debba cambiare le tue abitudini. Esatto, ho consigliato Six Continent a tutti i miei amici. Più siamo, più potere d'acquisto di tutti gli utenti aumenta. Io mi iscrivo adesso. Voi?